Nel campo dei diritti e del welfare, l'Italia e l'Europa possono svolgere un importante cammino insieme. Il quadro legislativo sull'uguaglianza di genere deve essere rafforzato, in quanto ancora oggi troppe donne subiscono disparità inaccettabili dal punto di vista salariale e pensionistico. Le persone diversamente abili in Europa devono avere pari accessibilità, bisogna rimuovere gli ostacoli per loro e le loro famiglie. Anche sui diritti LGBT c'è molto da dire, c'è bisogno di porre fine alle violenze, alle discriminazioni e dare le stesse tutele a tutti. Un'Europa più giusta riparte anche dai diritti di tutti.